La fatica dell'incontro ha cura sul volto di Igor Fontana, allora una vittoria che avete voluto fortemente, siete arrivati un po' stanchi nel finale dopo un grandissimo inizio. Sì, siamo partiti molto bene, abbiamo fatto un buon primo quarto soprattutto in difesa, poi probabilmente abbiamo sentito un po' la fatica, abbiamo mollato, l'importante è che siamo riusciti a rimanere lucidi nel finale e abbiamo portato a casa la prima partita. Il segreto della vittoria cos'è che vi ha portato a espugnare il campo di Cipognolo? Sicuramente la difesa e il giocare di squadra, passarsi la palla, e poi siamo in grado di fare partite molto belle. Mercoledì naturalmente gli avversari arriveranno ancora più determinati a Ruffanengo. Sì, loro sicuramente saranno più determinati, vorranno fare una bella partita, magari vorranno provare a ribaltare questi risultati, sarà il nostro dovere sempre rimanere lucidi, rimanere costantemente sulla partita e non mollare mai.